Ditemi la verità, quanto avete atteso questa settimana? Tutti guardiamo Dragon Ball Super con passione e ardore, ma questa volta c'erano ancora più persone che attendevano l'esito di questa battaglia. Chi voleva fugare i propri dubbi, chi aveva bisogno di una risposta, chi aveva riposto speranze, ho visto gente che ha scommesso i soldi su Kefla che diventava Super Saiyan 3. Kefla è diventato un personaggio odiato quasi quanto Ribrian, il che è tutto dire, e la cosa mi stupisce, ma nemmeno troppo, perché Kale e Califla divise erano già mal sopportate per il loro essere tremendamente sgrave, ma la loro fusione ha un potere inimmaginabile. La forma Super Saiyan di Kefla si è rivelata più forte del Super Saiyan Blue, che novità, e in questa puntata è diventata ancora più forte. Ma in questo episodio è tornato il mi gatto e no Goku, e io ho tutta una piccola mia teoria a riguardo, di cui però vi parlerò a fine video. Perciò ora mettetevi comodi e godetevi. La recensione. Io sono Caverna di Platone in piena rivalutazione. Ogni lunedì alle 14 recensisco l'episodio di Dragon Ball Super, che è andato in onda ieri in Giappone, per discuterne con voi. Sigla! La puntata 116 comincia con Kefla, che rimane sorpresa dal potere dell'ultraistinto. Goku si sposta su un'altura e sprigiona il suo potere, urlando con la doppia voce. Adoro questa sovrapposizione del tono normale di Masakuno Zawa e dell'urlo quasi bestiale, come se fosse tornato in forma a Uzzaru scimmione. È veramente una forma che tira fuori quelle connotazioni ancestrali e feroci dei Saiyan, coniugandole con le capacità divine. È una roba pazzesca l'ultraistinto, mi piace troppo. Goku dall'alto della montagna pare Mosè e dice a Kefla e a tutti gli spettatori, non avrai altro Dio all'infuori di me. Il cono di luce e di energia che sprigiona si innalza verso il cielo, sembra che stia per spaccare in due i ring e anche il Monokai stesso. Goku che guarda dall'alto Kefla e le dice, tu non puoi più battermi. È una roba proprio da cardiopalma. L'ultraistinto ha il potere di rendere tutto fighissimo e ce lo dobbiamo godere fino in fondo, ora che c'è. Tutti osservano con stupore. Uno degli Zenou dice che Goku è diventato tutto... Buah! E qui non si può far altro che accettare questa espressione. Io capisco benissimo i due bambini. Non c'è altro modo per definire il migatteno Goku-i. Quindi figuriamoci come potremmo inscatolare quello che ci suscita vedere un Goku super potentissimo. Qui stiamo davvero vivendo o rivivendo Dragon Ball da capo. E quindi, come allora, quando eravamo ragazzini, non possiamo irrigimentare le nostre emozioni. Possiamo solo viverle. Probabilmente la difficoltà che noi abbiamo nei confronti di Dragon Ball Super deriva dal fatto che abbiamo cominciato a dare un nome a tutte le cose che abbiamo scoperto. Questo è un po' lo svantaggio di crescere. Ma, ehi, se anche il Daishinkan dice che Goku è buah, allora è proprio... Buah! 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 Il Kaioshin dell'Universo 1 che non manca mai di lanciare frecciatine varie, ora si domanda se Jiren farà qualcosa, visto che Goku sta di nuovo raggiungendo gli dèi. Mi piace molto l'iconografia di questa scena. Il calore sollevato da Goku non tocca Jiren perché è protetto dalla sua barriera e disegna intorno queste linee curve come se fosse in una bolla. Spettacolo! Whis sottolinea che il potere di Kefla da sola rivaleggia con quello della Genki Dama dell'Universo 7. Il Genki concentrato di quasi tutti i guerrieri dell'Universo 7 è paragonato a quello di un solo guerriero nato da una fusione. Ve l'ho detto, il problema principale di Kefla è che è troppo sgrava. In ogni caso, questo enorme potere ha costretto Goku a rompere di nuovo il guscio che lo protegge dal mondo esterno e a fare una bella frittata. Goku uovo! La preoccupazione di Shampa è comprensibile. La seconda volta che Goku raggiunge questa forma, fatelo fuori prima che accada l'irreparabile. Ma Shampa non sa che tutti gli shonen hanno delle regole ferrere a rispettare e anche quando la morte ti allida sul collo, se sei il protagonista la sfangerai sempre per sempre. Il calore sprigionato da Goku raggiunge ogni angolo del ring e Kefla si trasforma in Super Saiyan 2, potenziandosi ulteriormente. I pezzi del ring che i due Saiyan spostano con la loro energia costringono tutti a ripararsi e a interrompere le attuali battaglie. Anche l'energia di Kefla raggiunge quella di Goku e l'aura si espande fino al cielo. Sembrano due colonne, anzi due tornado, pronti a scontrarsi e a portare la distruzione sull'intero torneo del potere. Adoro il fatto che la fusione benedica il suo destino, questa energia la possiede solo perché è una Saiyan. Si torna finalmente a dare grande importanza alla razza guerriera che ultimamente sembrava un po' altalenante con queste trasformazioni che in realtà non risolvono niente e i terrestri che con un po' di allenamento con i bracconieri potevano anche rivaleggiare con Goku e Super Saiyan Blue. So che è tutto molto spinto, molto forzato, ma vedere questi due guerrieri che si danno forza a vicenda è stupefacente. Anche Piccolo si accorge del fatto che stanno diventando sempre più forti perché combattono tra loro. Sapete a cos'altro stavo pensando? Alle leggende e alle profezie Saiyan. Forse tutte queste trasformazioni non sono quelle giuste, ma l'unico modo per tirare fuori il vero potere dai Saiyan è questo. Cioè combattere e combattere ancora e combattere ancora finché da queste battaglie non nasce il guerriero definitivo. Magari è una mia sovralettura, però lascio spazio per qualche discussione. Ora che Kefla è diventata Super Saiyan 2 i suoi raggi hanno cambiato colore. Prima erano quelli verdi tipici di Kale e adesso sono rossi come quelli di Califla. È interessante notare che non c'è una grande pretestuosità in questa scoperta. Nell'originale Dragon Ball Gotenks inventava i nomi delle tecniche per fare scena, era una cosa divertente. In Dragon Ball Super Zamasu Fuso aveva già un nome per ogni tecnica, era una cosa assurda. Si calcava troppo la mano su questa supposta onniscienza mai dimostrata prima dalla divinità. Kefla invece, schiocca le dita, appaiono diverse piccole cariche esplosive di energia di colore rosso brillante che con un movimento della mano si trasforma in una specie di disco rotante. Niente nomi, niente cacate, semplicemente ho provato a fare qualcosa con le mani ed è uscito questo. Per me, si può anche chiudere qua Dragon Ball, finalmente hanno capito cosa dovevano fare. 10 più. Kefla sente di poter distruggere un intero universo con questa energia. Goku smette di potenziarsi, si mette in posa pronto ad attaccare e schiva molto facilmente l'attacco della ragazza che si regge in piedi goffamente. Nessun colpo riesce ad andare a segno, le reazioni di Goku sono al di là di ogni immaginazione. Il Kaioshin dell'universo 6 sbrocca definitivamente urlando come un pazzo e questo è molto divertente, sembrava una persona così pacata, pacifica, affinatore, invece un pazzo. Nel frattempo Vegeta deve fare lo scemo della situazione. Praticamente chiunque ha capito che il Bengatte no Goku è a che fare con gli dèi, con il movimento istintivo, tranne lui. Cioè, ora ci arriva a formulare il pensiero che l'ultraistinto è quella cosa che Whis voleva che lui e Goku raggiungessero durante gli allenamenti. Masaka! E parte il flashback con Whis in colore di seppia che dice ai due Saiyan dovete muovervi senza pensare e se ci riuscirete vi verranno gli occhi grigi come i miei e partirà ogni volta una musichetta roccheggiante. Kefla si lancia all'attacco di Goku che si lascia cadere da uno strapiombo e questa scena è roba da manuale delle battaglie, roba da Jojo. Mentre Goku cade, Kefla spara i suoi colpi, Goku affonda le gambe nella roccia così può piegare il busto e schivare. E mentre Kefla lo raggiunge, scelta di regia fantastica e immensa, proprio la adoro questa cosa, il tempo si rallenta, diventa tutto rosso, colorazione completamente vermiglio e Goku dà un cazzottone alla ragazza. Bellissimo! Sia Goku che Whis però si rendono conto che la potenza di Goku non viene espressa bene, il suo colpo è stato debole. Kefla infatti lo schernisce però piano piano il Saiyan si sta abituando, al Migat e no Gokui, questa forma diventa sempre più centrale in Dragon Ball Super e anche sottolineato dal fatto che gli eyecatch di questa settimana ci mostrano Goku mentre sprigiona la solita aura bluastra invece dei guerrieri nel torneo del potere. Ora che Goku si sta potenziando ancora di più, Jiren si sveglia dalla meditazione perché vuole assistere alla battaglia. Kefla fa la gradassa una volta di troppo e Goku le arriva alle spalle e le dà tanti di quei cazzotti che non solo le fa vedere le stelle, ma tutte le costellazioni proprio. Ora è Goku che schernisce un po' la Saiyan, ti faccio vedere io e ti convino adesso. Mamma mia, ci si casa un casino. Vai Goku, scassa tutte cose. Amo questi recuperi dalla serie originale. Il classico colpo con lo spostamento d'aria è pura gioia estetica. Il modo in cui Goku concentra il pugno e colpisce il vuoto in questa posa plastica è meraviglioso. Anche questa volta però la forza è molto minore rispetto alle aspettative. Quando Goku attacca non è capace di usare al massimo il Migatte Nogukui. Quindi, dichiarazione di guerra. Goku guarda Kefla dritto negli occhi, dritto per dritto, ed esclama il prossimo colpo sarà quello definitivo. La ragazza qua non ci vede più, si incazza come una bestia e usa tutto il suo potere in una volta sola. L'energia rossa che sprigiona dal corpo diventa una specie di raggio laser da discoteca e colpisce in tutte le direzioni e taglia qualsiasi cosa. La Saiyan riesce a direzionare questi raggi però Goku schiva ogni colpo anche se comincia ad apparire in difficoltà. Probabilmente l'ultraistinto sta raggiungendo il limite quindi stringi Goku, non dobbiamo fare in fretta e qui Goku comincia a caricare la Kamehameha. E lo spettatore pensa che ormai faranno il solito scontro fra raggi energetici, abbiamo visto mille volte. Goku inizia a saltare da una roccia all'altra per schivare tutti i laser e c'è questo piccolo riferimento che mi piace ogni volta che lo stanno facendo sempre anticipano il modo in cui si sta esaurendo la forma con questa luce negli occhi che si affievolisce qui è animata perfettamente, sembra quasi una lacrima una lucentezza che splende al massimo prima di abbandonare l'occhio alle spalle di Goku preannunciandolo inevitabile. Ormai Goku è vicinissimo a Kefla e compie un balzo. La Saiyan giustamente vuole approfittare di questo svantaggio perché a mezz'aria cosa schivi se non hai un punto di ancoraggio? Come disse Obi-Wan, è finita Anakin, sto più in alto di te. Kefla carica tutte le sfere con le mani, crea due dischi di colore verde e rosso mischiati e spara due colpi giganteschi. Qui Goku sovverte tutte le aspettative e invece di sparare la Kamehameha che cosa fa? Usa la sfera per slittare sui colpi di Kefla raggiungerla e sparargli il colpo nella facciona ciacciola per ben tre dannate volte lo fa vedere vai pam pam pam! Il colpo di Goku è così forte che non solo sbatte all'aria Kefla ma distrugge il ring, spacca i potara, rompe la quarta parete raggiunge la luna e fa un cratere! Le due ragazze così divise cadono sugli sparti e mentre Kale si scusa con le divinità Kalifla lancia anatemi a Goku che ha consumato tutte le energie e perde la forma, ultraistinto. Di nuovo. La puntata finisce, mancano 17 minuti alla fine del torneo del potere nella preview di settimana prossima C-18 fa la fine delle botte a muro, molto probabilmente uscirà e Ribrian avrà un nuovo power up Waku Waku Questa è stata una puntatona piena di poteri fighissimi e sfavillanti Gli animatori stanno facendo bene il loro lavoro rendendomi un bambino felice ma ci pensate che praticamente hanno affermato tramite una serie di concatenazioni mentali che Kefla o la Genkidana di Goku potrebbero distruggere un intero universo? Chiaramente da prendere con le pinze, una battuta chiaramente vi incazzerete perché Kefla non può azzardarsi ad essere così forte eccetera 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 Vegeta e Freezer vogliono entrambi sfruttare il migatte Noko qui il primo perché deve superare Kakarot la solita fissa e appena ci proverà farà subito la solita figura di palta Freezer invece vuole che Goku continui a migliorare sviluppando questa forma perché deve combattere al posto suo non fa una grinza Com'è come non è questo ultraistinto sembra davvero molto instabile e a quanto pare per Goku è automatico schivare ma quando attacca perde ancora tempo a riflettere motivo per cui i colpi deficitano in forza la prima è andata così così la seconda un po' meglio la terza volta finalmente sarà quella buona punto di domanda ecco spiegato comunque perché usa la Kamehameha deve solo caricare il colpo mentre lascia al corpo tutte le schivate anzi vi dirò di più Vegeta proverà ad usare l'ultraistinto raggiungerà la forma offensiva dell'ultraistinto Goku osservando capirà come perfezionare la forma difensiva e otterrà l'ultraistinto completo scommettete, vedete no, vedete no, io dico di sì perché questo non solo sarebbe in linea con Dragon Ball Super quello che vogliono raccontarci cioè il mostrare Goku e Vegeta sempre protagonisti in questo caso due facce della stessa medaglia però darebbe anche forza a un mio pensiero che forse è una cretinata però vi ricordate che quando venne anticipato la prima volta il migatto e no Goku era di colore rosso? e allora perché a Goku è sempre blu? potrebbe essere un cambio grafico in corsa Made in Toei ma forse potrebbe anche essere che il blu è la difesa il rosso è l'attacco io ve l'ho lasciata qui questa roba come testimonianza o magari ci discutete, ne parliamo, nei commenti eccetera pensateci questa puntata ha veramente delle ottime mazzate fra le più intriganti e tattiche mai viste prima in Super il migatto e no Goku qui questa volta è stato bellissimo se per me è la puntata 110 potete pure prenderla la buttate nel cesto e tirate lo scarico tranquillo proprio la 116 ha superato tutte le aspettative la regia era buona, i colori fantastici ci sono dei ricicli di animazioni che vengono proprio dall'episodio 110 ma proprio per questo la sostituiscono meglio non posso fare a meno di chiedermi però se non ci fossero state Kale e Califla avremmo mai avuto tutta questa bellezza perdonatemi ma quando cadono sugli spalti e sono l'una sulle tette dell'altra io ho attivato l'ultraistinto sono disegnate carine hanno dei caratteri simpatici se non fossero così sgrave sarebbero anche dei bei personaggi però dobbiamo accontentarci e poi non possiamo negare l'evidenza sono una coppia perfetta e in queste 4 puntate di sola battaglia le abbiamo apprezzate alla grandissima non dite di no, non ci credo volevo chiarire anche un'altra cosa vabbè penso sia superflua però diciamola quando Goku spara la Kamehameha e si rompe un ipotara io credo sia stato poco più di un semplice effetto scenico cioè il separarsi dagli orecchini o la distruzione di essi non comporta nulla per la fusione perché sembra dalla scena che siccome si rompono gli orecchini Kefla si scinde nelle due ragazze ma credo che siccome poco prima ha usato tutto il suo potere sia finito anche il tempo per mantenere l'unione tutto qua comunque torniamo seri per un momento perché settimana scorsa c'è stato il tragico evento della morte di Hiromizuru la doppiatrice storica di Bulma ed è sempre un peccato quando una voce che ti ha accompagnato per tanti anni sai che non la sentirai più se avete seguito il live streaming della puntata in giapponese avrete visto questo messaggio di cordoglio per la doppiatrice che ora vi mostro a video e ve lo faccio vedere perché molti aspettano la puntata subbata e magari pensano che Toei si è dimenticata di omaggiare la signora Atsuru però non è così e questa settimana siamo veramente pieni carichi di emozioni bella cosa bella puntata gasante mi sono divertito tantissimo voi vi siete divertiti? fatemelo sapere con un commentino qua sotto sempre qua sotto nella descrizione del video trovate tanti altri link utili per continuare al seguito del mondo di Dragon Ball Super, per leggere il manga, per trovare l'anime eccetera 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 trovate anche i miei link social per continuare a seguirmi al di fuori di YouTube, sempre questo sotto nella descrizione del video ci sono anche i link Amazon per sostenere economicamente il canale, comprate le cose che più vi piacciono oppure i prodotti che vi consiglio io partendo sempre dai miei link io riceverò una piccola percentuale che utilizzerò per comprare gli scacchi di Dragon Ball Z, con questo è tutto ci vediamo al prossimo video, ciao ciao e è libero di leggere e che bello Dragon Ball Super